ciao ragazzi benvenuti a questa nuova parte di pokemon platino bene proseguiamo il nostro viaggio verso la prossima città bene seguiamo ecco un allenatore un pigliamosche raffaele pigliamosche manda in campo un warpool un suo morso perché ancora a zubat non ha imparato a tocco l'ala bene con un altro morso abbiamo mandato a cappa da kriegekut continuiamo a lottare adesso usa pazienza nei morso con un altro morso lo dovrei mandare cappa o si adesso ci sarà la nostra seconda battaglia in team e mandi in gambo zubat e luxio bando in campo un due paci riso devo cambiare perché zubat non è non è in condizioni di lottare contro due paci riso bene con l'aluzio faccio un azione usa un attacco rapido su torcia adesso uso pugno rapido con torcia adesso uso attacco rapido su nixio e l'altro invece attacco rapido su torcia usa scintilla non è molto efficace uso di nuovo pugno rapido con luxio un azione uso attacco rapido su luxio sono solo attacco rapido solo pugno rapido bene mangiamo cappa il primo paci riso e con un pugno rapido e con un pugno rapido mandiamo anche l'altro paci riso cappa bene sconvitto anche queste due gemelle possiamo proseguire il nostro viaggio raccogliamo questa pokeball all'interno c'è se mitraglia bene bene adesso andiamo in giardin fiorito questa nuova città bene bene se noi proseguiamo notiamo che c'è una bambina ci parliamo c'è che il suo padre è stato catturato all'impianto turbine bene bene adesso noi mettiamo questa ragazza e in quell'erba ci sarà il prossimo pokemon che catturerò che sarà scellos sarà il nostro quarto pokemon adesso lo facciamo con questa recluta del team galassia mandere in cambio in cambio blemiao usa ruggito ho cercato di fare super suono per stordirla non ci sono riuscito un altro ruggito io uso morso va a fare super suono sperando che si confonda no ok adesso cambio metto torcio così con un pugno rapido mandiamo cappò bene andato cappò questo cremiao bene torcio a livello 18 adesso si chiuderà dentro con la turbine chiave e ci dice che l'altra chiave l'hanno l'hanno due suoi amici adesso la chiude bene e adesso andiamo a recuperare l'altra chiave per curare i miei pokemon per curare i miei pokemon ok adesso possiamo andare a recuperare l'altra chiave ok l'altra chiave l'altra chiave potremo entrare nell'edificio dell'impianto turbine entriamo vediamo che tengono in ostaggio un uomo ecco che si accorgono di noi e incomincia una lotta l'altra chiave manta stanchi stanchi a livello 13 cerco di confonderlo attraverso il super suono no bene cambio metto luxio uso stridio di nuovo uso scintilla lo mandiamo KO subatto sarà a livello 16 così abbiamo battuto la prima recluta del team galassia adesso dobbiamo affrontare la seconda ok se non mi sbaglio manderei in cambio in campo uno zubat e un glemiao se non mi sbaglio mando luxio chasanguisuga ne facciamo una scintilla ne facciamo una scintilla e lo dovremmo mandare KO vediamo si mi sbagliavo adesso con un'altra scintilla mandiamo anche questo zubat KO e il nostro luxio sale di livello anche luxio sale di livello 16 facciamo così queste due reclute adesso torneranno all'impianto turbine adesso la lasceranno con la pokeball all'interno c'è una turbine chiave e questo signore ce la da e in cambio ci da anche un il miele che se si spalma sugli alberi attirerà dei pokemon selvatici bene richiamoci all'impianto turbine all'impianto abbiamo un giro che 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 adesso usiamo la nostra chiave la turbine chiave la porta si aprirà entriamo e c'è questa recluta del team galassi che avevamo sconfitto prima bene ragazzi la parte sta per finire spero che questa parte vi sia piaciuta commentate, iscrivetevi un saluto da Raffox24